Benvenuti sul canale Flash News Ita. Oggi parliamo di una moneta molto conosciuta utilizzata per il pagamento delle chiamate dai telefoni pubblici dal 1959 al 2001. Sto parlando del gettone telefonico, molti di voi se lo ricorderanno o magari l'avranno conservato in qualche salvadanaio o cassetto. Ma quanto vale oggi un gettone telefonico? Bisogna dire innanzitutto che i gettoni sono stati creati in alpaca, ossia un tipo particolare di lega formata da rame, nickel, zinco e bronzo. Il peso del gettone telefonico è di 8,5 grammi e il diametro è di 25,75 mm. I primi esemplari di gettone telefonico furono coniati nel 1927 a opera della Stipel, una concessionaria del servizio di telefonia del Piemonte e Lombardia in occasione della Fiera Campionaria di Milano. Poi nel 1945 la Teti realizzò il primo gettone a tre scanalature che poteva essere utilizzato in qualunque tipo di telefono pubblico. Nel 1959 nacquero i gettoni utilizzati da tutti noi che rimassero in circolazione fino al 31 dicembre 2001, anche se la loro cognazione cessò già dal 1980. In seguito nacquero le gettone telefoniche anche se utilizzate tutt'oggi come oggetti da collezione. Il valore nominale però del gettone telefonico è cambiato negli anni. Nel 1959 era di 30 lire, nel 64 era di 45 lire, nel 72 era di 50 lire, nel 1980 era di 100 lire e nel 1984 era di 200 lire. Ma vediamo nel dettaglio il gettone telefonico. Al dritto vi sono due sezioni, la prima in alto è incisa alla scritta gettone e al di sopra c'è un piccolo campo che può essere al suo interno libero oppure può presentare un simbolo della ditta produttrice di quel momento. Le ditte di produzione dei gettoni telefonici erano quattro, la ESM di Emilio Senese Medaglie, la UT, Urmet Costruzioni Elettro-Telefoniche, la IPM, Industria Politecnica Meridionale e la CMM, Costruzioni Miniaturie Metalliche. Ma continuiamo nella descrizione del gettone telefonico. Nella parte inferiore del gettone troviamo la scritta telefonico ed in basso c'è il campo con inciso prima l'anno di produzione e poi il mese di produzione. Se giriamo invece il gettone telefonico al rovescio troviamo la divisione della moneta in tre sezioni. Nella parte centrale è incisa la raffigurazione di un telefono telefonico che si utilizzava in quel periodo, in quell'epoca. Ma passiamo al valore del gettone telefonico ad oggi. Quanto vale? Il gettone telefonico è stato coniato in oltre un milione di esemplari e dare un valore preciso è abbastanza complicato perché dipende da vari fattori come per esempio lo stato di conservazione e l'anno di produzione. Quelli più ricercati dai collezionisti sono ad esempio i gettoni del 1927 con inciso la scritta stipel nella parte superiore. Questo tipo di gettone vale all'asta dai 60 agli 80 euro a seconda dello stato di conservazione. Un altro tipo di gettone abbastanza comune ma che ha anche un valore superiore alla media è quello con la sigla 7809 ossia dell'anno 1978 e 09 indica il mese settembre. Questo tipo di gettone se in ottimo stato vale dai 5 ai 15 euro. Infine un altro tipo di gettone sempre molto ricercato dai collezionisti è dell'anno 1976 ossia con la sigla 7607. Questo particolare tipo di gettone non è un valore molto alto però ripeto è molto ricercato dai collezionisti a seconda del suo stato di conservazione. Infatti il valore parte all'asta dai 10 ai 30 euro circa. Dunque per oggi ci fermiamo qui. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Per avere invece altre informazioni iscrivetevi sempre al canale e lasciate un commento in basso. Ciao! 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 Grazie.